A Stella Cilento, in località Droro, un uomo di 62 anni, Nicola Bertolini, ha perso la vita, travolto dal suo motocarro agricolo. Stava aiutando i suoi familiari nella raccolta delle olive, quando il mezzo si sarebbe ribaltato, schiacciandolo. L'uomo, medico-chirurgo, residente a Battipaglia, lavorava all'ospedale di Ebole e era originario del Cilento. Immediato l'intervento da parte dei sanitari del 118, i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania e i vigili del fuoco. Per l'uomo, però, non c'è stato nulla da fare.